Un cordiale saluto dalla redazione di Arezzo TV, benvenuti al nostro consueto appuntamento con l'informazione in apertura. Iniziamo con la cronaca perché è stato aggredito in pieno centro ad Arezzo da un gruppo di giovani che lo hanno ferito al volto. Questo è successo attorno alle 15.30 nei giardini del Porcinai a pochi passi dalla stazione di Arezzo. Ricostruiamo tutto nel servizio di Chiara Sadotti. È stato aggredito in pieno giorno da un gruppo di giovani che lo hanno ferito al volto. Torna così ad accendersi l'allarme ai giardini del Porcinai. Ci troviamo a pochi passi dalla stazione di Arezzo. In questa zona c'è un certo grado di disagio. È veramente lasciata all'incuria totale. Sono sempre le persone che sono ubriachi, drogati. Dopo una certa volta non si cammina qui. Ad aggredire un passante nel primo pomeriggio, per futili motivi, un gruppetto composto da 4 o 5 ragazzi a lanciare l'allarme i presenti in zona che hanno sentito delle urla a pochi minuti e sul posto è arrivata la polizia di Stato. I giovani aggressori si sono subito dati alla fuga, mentre l'uomo medicato dal personale del 118 ha riportato un trauma facciale con una prognosi di alcuni giorni. Adesso sono in corso le indagini per rintracciare i presunti responsabili. Succede quotidianamente problemi qua davanti. Siamo messi veramente male, ma questa ormai è una storia vecchia. Non è che raccontiamo niente di nuovo adesso. Tutte le sere qui ci sono spaccio, non c'è nessuno, è anche piuttosto buia come zona. Nelle scorse settimane, sempre nel centro storico Aretino, in piazza Sant'Agostino, un altro uomo era stato vittima di un'aggressione per aver chiesto ai giovani di legare i loro cani di taglia grossa mentre lui stava camminando assieme al suo amico a quattro zampe che si trovava al guinzaglio. La situazione è fuori controllo in piazza Sant'Agostino. A me mi hanno preso anche a pugni nel viso una volta due anni fa. Assolutamente ci vuole più controllo in piazza Sant'Agostino e in Arezzo in generale. Ancora cronaca, è precipitato mentre scalava una parete rocciosa. La vittima si chiamava Frank Migliorati, un 53enne di città di Castello, morto oggi durante una operazione di chiodatura di un percorso d'arrampicata sulla falesia balza della penna a Piobbico, nel Pesarese. Migliorati era molto conosciuto in Valtiverina ed era socio del gruppo speleologico CAI di Sansepolcro. E adesso passiamo alla cronaca giudiziaria perché è arrivato alle ultime battute il processo per il caso Coingas. Il 28 febbraio ci sarà la sentenza. Ricostruiamo tutto nel servizio di Greta Settimelli. Si è chiusa nel tardo pomeriggio una lunga udienza, l'ultima. Sul caso Coingas oggi dovevano terminare le arringhe delle difese ed infatti è stato così. La sentenza sarà il 28 febbraio. La procura ha inciampato sul sindaco, ha detto in aula il difensore del sindaco di Arezzo Alessandro Ghinelli. Con lui a processo ci sono altri 10 imputati. L'impressione è che la procura abbia inciampato sul sindaco nello svolgimento delle sue indagini, ha detto in aula Piero Melani Graverini, difensore di Ghinelli, che ha raccolto il testimone di Luca Fanfani. Certo è che se si inciampa sul sindaco, ha detto, il processo prende un'altra luce. Graverini ha poi chiesto l'assoluzione per tutti e tre i capi di imputazione. Assoluzione perché il fatto non sussiste, anche questa la richiesta avanzata dai legali dell'assessore Alberto Merelli e anche i legali dei tre imputati del filone Multiservizi si sono espressi, chiedendo l'assoluzione per Lorenzo Roggi, presidente di Arezzo Casa, Luca Amendola, ex presidente di Arezzo Multiservizi, e Roberto Bardelli, consigliere comunale. Chiesta l'assoluzione da parte dei difensori anche per Franco Scortecci, attuale presidente di Coingas, Mara Cacioli, ex dipendente, e per l'avvocato Stefano Pasquini. Il 28 febbraio la procura dunque potrà pronunciare le sue repliche e poi la lettura dell'attesa sentenza. Ancora un incidente stradale questa mattina intorno alle 10 e 20 è accaduto nel comune di Cortona lungo la strada provinciale del Sodo. Una sola auto coinvolta che è finita fuori dalla carreggiata. Al volante una ragazza di 23 anni, unica occupante dell'abitacolo, che è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti i sanitari dell'emergenza urgenza. Sono intervenuti inoltre anche i vigili del fuoco con una squadra per mettere in sicurezza il tratto stradale e i carabinieri della compagnia di Cortona per effettuare i rievi di legge. La ragazza ferita è stata trasferita all'ospedale San Donato in codice giallo. E torniamo adesso a parlare dell'emergenza Lupi nel territorio aretino. Il caso è finito in prefettura, dove si è riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica. Vediamo. Nessuna iniziativa privata. Evitare di lasciare il cibo, perché è chiaro che il lupo è un predatore, va alla ricerca di cibo all'esterno delle abitazioni, quindi si avvicina proprio perché ha la sua portata da mangiare. Anche con gli animali domestici bisogna fare particolarmente attenzione. Gli avvistamenti ormai sono all'ordine del giorno, anche vicino alle case come nella zona di Marino Famercato a Subbiano. Cresce così nell'aretino l'allarme Lupi che negli ultimi giorni hanno fatto anche stragi di animali d'allevamento come pecore e muffloni. Anche per gli allevamenti, quindi laddove è possibile installare delle recinzioni, è chiaro che molto dipende, ripeto, dai comportamenti individuali. Il caso adesso è finito in prefettura. Si è infatti riunito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, preseduto dal prefetto Maddalena De Luca, alla presenza dei rappresentanti delle forze dell'Ordine, del Comune di Arezzo e della provincia. Uno dei temi trattati è stato proprio questo. Quindi attraverso l'attività dei carabinieri forestali mi hanno rappresentato quale è la reale situazione sul territorio. Si parla di esemplari che vengono classificati in gruppi, perché il lupo si muove in branchi. Sono circa 25 famiglie microchippati, quindi sono monitorati, e anche gli altri che non hanno il microchip sono seguiti e controllati attraverso le telecamere. Questa è una situazione che preoccupa, insomma, cosa è stato deciso di fare? Sì, è sicuramente una situazione molto complessa, che merita tutta la nostra attenzione. Ora, a brevissimo, convocherò un incontro con tutti gli attori che sono coinvolti, chiaramente, e che sono preparati sulla materia, per cui anche la Regione, anche la Task Force Lupo, proprio per individuare quelli che sono però dei comportamenti che vanno adottati. Il treno 9300 Perugia-Torino, che in Toscana effettua le fermate a Teronto, Larezzo e Firenze, il Frecciarossa, resta confermato per i prossimi due anni, quindi nessun allarmismo. Lo dice l'assessore ai trasporti del comune di Cortona, Silvia Spenserati, a seguito dei timori espressi sulla stampa locale dagli esponenti PD in Regione De Robertis e Ceccarelli. Siamo nella fase di rinnovo contrattuale, pertanto al momento è inibito l'acquisto dei biglietti per il mese di marzo, dichiara Spenserati. Si tratta di una questione tecnica temporanea, ma l'accordo fra la Regione Umbra e Trenitalia è stato già stabilito. E rimaniamo in Valdichiana, il comune di Castiglion-Fiorentino aderisce allo stralcio previsto nella legge di bilancio 2023. Il sindaco Mario Agnelli ne spiega le motivazioni. Se ne parla tanto di strumenti che possono in qualche modo aiutare famiglie in difficoltà, imprese. Ovviamente ognuno per le sue competenze. Quello che ha fatto l'amministrazione comunale, la giunta di Castiglion-Fiorentino è utilizzare questa leva che diminuisce un po' la pressione in un momento particolare. Il comune di Castiglion-Fiorentino dice sì alla rotamazione delle cartelle esattoriali sotto i 1000 euro. L'amministrazione è infatti aderito allo stralcio previsto nella legge di bilancio 2023 che prevede l'annullamento automatico alla data del 31 marzo 2023 dei debiti affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 di importo residuo fino a 1000 euro. Si tratta di un annullamento automatico di tipo parziale. Non ci possiamo dimenticare da dove veniamo, due anni di pandemia, una crisi economica, energetica e quindi questo atto che noi abbiamo deliberato va proprio nella direzione di aiutare coloro che sono più in difficoltà. Questa possibilità all'interno del comune di Castiglion-Fiorentino era percorribile, realizzabile quindi mi limito a dire che per la mia comunità era possibile. Gli altri ovviamente fanno le loro valutazioni. La provincia di Arezzo cerca giovani laureati in giurisprudenza interessati ad effettuare pratica presso l'avvocatura provinciale. Il termine entro il quale presentare questa domanda è fissato per il 20 febbraio. Il bando di partecipazione e la relativa domanda sono pubblicati sul sito dell'ente. E a Ciarezzo compie 100 anni. Presentato oggi il ricco calendario di iniziative. Vediamo. 1923-2023. A Ciarezzo compie 100 anni. Alvia un programma di iniziative del centenario diviso in un calendario istituzionale e in un calendario sportivo. Questo centenario viene da noi celebrato in modo dinamico. Non abbiamo intenzione di fare un'autocelebrazione ma dare importanza a quello che l'ACI può fare per il territorio. Quando si parla di ambito sportivo le gare chiamano tantissimo pubblico che alimenta il circuito turistico ricettivo. Questo è uno dei primi motivi oltre alla bellezza delle gare in sé per sé. Dall'altro lato l'attività istituzionale, la sicurezza stradale, il progetto Guida che ti guido che è quello rivolto a tutte le scuole che faremo e che muoveremo all'interno per creare nei ragazzi la coscienza della sicurezza stradale. Oltre alla parte istituzionale poi ci sono le manifestazioni sportive. Quest'anno abbiamo forse la novità che se verrà fatta la Camuscia Cortona è un raduno di auto storiche da competizione in un tracciato che se no lo vedeva un percorso mai finito mentre invece sta riprendendo vita forse si potrà rifare qualcosa anche nella salita dello spino che quest'anno invece non è in calendario quindi cerchiamo di movimentare anche queste attività che sono storicamente eccezionali e che stanno morendo. Tra gli appuntamenti Clou l'8 ottobre ci sarà Ruote nella Storia che quest'anno trova casa proprio nella città di Arezzo. Ruote nella Storia è ormai arrivata la nostra quinta edizione, la nostra manifestazione culmine gioiello e quest'anno ad Arezzo perché ci sembrava giusto dopo le quattro vallate entrare nella bellezza della città in modo tale da valorizzare la nostra bellissima città insieme a questo raduno di auto antiche che sono veramente uno spettacolo. E adesso passiamo ad un appuntamento domani e domenica a Casa Tevenin. Sarà possibile ammirare ed acquistare le creazioni originali dell'artista Sandro Sarri, opere per lo più raffiguranti luoghi simbolo della città di Arezzo. La mostra sarà visitabile ad ingresso gratuito dalle ore 10 alle ore 20 nell'atrio del palazzo di via Sasso Verde. Il ricavato sarà destinato all'implementazione del servizio diurno della fondazione Casa Tevenin. E Castiglion Fibocchi è città dell'olio ed entra nella grande rete della promozione del nettare verde. Vediamo il servizio. Castiglion Fibocchi è città dell'olio. È stata consegnata la bandiera dell'associazione al comune che entra così a far parte della grande rete che raccoglie 437 enti pubblici impegnati nella promozione dell'olio extravergine di oliva e nella valorizzazione del patrimonio olivicolo italiano. Castiglion Fibocchi è il 56esimo comune della Toscana ad aderire alla rete. Nuovi servizi bibliotecari sono attivati dal mese di febbraio presso la sede del Pionta di Arezzo all'Università di Siena in Viale Cittadini 33. Domani sarà il primo sabato di apertura sperimentale per il mese di febbraio delle sale studio del Campus Lab con sede nella palazzina Exram dove ha sede anche la biblioteca. Le sale saranno aperte nell'orario compreso che va dalle 9 alle ore 17. E torniamo a Castiglion Fiorentino dove è stato un successo lo spettacolo Il pittore di cadaveri di cui è stata protagonista al Teatro Spina Ornella Muti. Tra gli interpreti dello spettacolo anche Maurizio Tesei. Ascoltiamolo. Ornella Muti in una splendida forma al Teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino per la pièce Il pittore di cadaveri che contrariamente al macabro titolo è un'opera poetica che invita ad amare la vita infondendo un senso di fiducia nel futuro. L'opera narra infatti la vicenda di un pittore stimato soprattutto per la sua capacità di stupire oppresso dalla dipendenza di farmaci e alcol. Volendo creare un'insolita ed eccentrica performance cerca di trafugare le spoglie del padre ma viene arrestato e cade in una sorta di depressione. Gli viene così commissionato un ritratto la moglie di un facoltoso committente. La donna da ritrarre arriva priva di sensi in una cassa. L'artista in qualche modo la rivitalizza e tra pittore e modella nasce un patto e ad ogni richiesta della donna il pittore riceve in cambio un colore. L'unica spiegazione nazionale è che qualunque cosa ti abbia colpita in realtà lo ti abbia uccisa che per qualsiasi ragione tu sia esercitato. Ci sono delle malattie rari ma ci sono che rallentano il battito per Dio capito appunto che una persona viene dichiarata bocca. Quindi stai dicendo che potrebbe essere un miracolo inizia lo spettacolo che lui fa questo racconto che viene beccato dalla polizia mentre tenta di fare una cosa non proprio consona per fare una sua opera d'arte quindi diciamo il fatto che poi gli commissionino proprio un'opera d'arte fuori dagli schemi per lui è anche un po' un'occasione di provare di riuscire a lavorare in un certo modo non so come dire ci sono l'altro personaggio che è il signor Pepper diciamo che è il commissionante lui è una persona ricca che può fare determinate cose senza essere perseguibile a livello legislativo perché è una persona potente ma non ha l'arte per fare una cosa del genere quindi si rifà al mio personaggio a Vitavich che ha l'arte per fare una cosa del genere ma che quando ha provato a fare un'opera fuori totalmente fuori dagli schemi è stato beccato e arrestato quindi è un po' anche questo uno specchio c'è chi può con i mezzi ed è intoccabile e c'è chi non può ma può soltanto con i mezzi dell'arte e al via questa sera una nuova trasmissione della nostra emittente si tratta di canzoni e cabaret in programma ogni venerdì vediamo meglio di che cosa si tratta in questo servizio un nuovo format nella programmazione di Arezzo TV si canta, si balla, si ride che si fa? si gioca ah ok no è stato veramente penso una bella cosa ideata qui con Mileno ma quello c'è anche il prete per la messa in onda si è vero è vero è vero e ci ha dato anche la benedizione all'inizio perché che la è un fondo in fondo hai ragione si che venisse bene la trasmissione ci ha dato la benedizione ma te canti? ogni tanto si eh facciamo delle belle cose perché sei un uomo felice bello sei proprio un uomo da baciare tutto da diventare quasi gay dai anche quello dammi ora a una certa età bisogna provarle tutte aspettiamo dai ancora aspettiamo generi a parte di che si parla in questa trasmissione? ma la mia parte sicuramente quella musicale sentirete delle canzoni belle attuali poi fa anche cabaret lui fa anche cabaret fa proprio si veste fa cabaret fa il comico è bravissimo come comico cioè se lo sapeva prima mi ha detto avrebbe fatto una cosa da giovane ora l'ha scoperto tardi però siamo a carnevale ora siamo a carnevale e che vuol dire? ogni scherzo vale? no no ma te mi hanno detto sei bravissimo l'ho visto anch'io poi ti guardo in televisione mi calma si si ma te che hai fatto? che ho fatto? se guardi adesso tv lo scopri di più ma qualcosina fa l'anticipazione e ce la dai? no c'era ogni tanto però poi dopo un po' sono ritornato poi ma io guardavo e lo facevi te ma c'è anche la malletta mi hanno detto te le donne pieno di donne pieno di donne proprio donne ma buone cioè di carattere buone di carattere buone c'è con caratterino che è una cosa micidiale no le donne tutte a te a noi niente ho visto un furgoncino anni 60 è bellino veramente bellino dai e quello è il nostro mezzo di trasferimento che abbiamo così almeno non ci nota nessuno è bellino giusto? che non ci nota nessuno ma io avevo preso l'ape sono rimasto a piedi era l'ultimo modello è tre ruote e uno sportello ma sono rimasto a piedi lo dico quella allora te sei più fortunato di me lo sapevo sul camioncino va beh insomma qualcosa ci avete detto e poi insomma l'invito è a seguire la programmazione sicuramente sì se no era brutto svelare subito fin dall'inizio tutto la gente ci deve guardare penso che una mezz'oretta si diverterà con noi come dice Beppe se guarderei su di più ne sai di più è vero sicuramente sì dai pensate in questi momenti che sono tristi con problemi costi benzina cavoli vari una mezz'oretta ancora? sì e sono l'ape l'ultimo modello così almeno mezz'ora spensierata sicuramente la volevamo regalare un po' tutto il pubblico è una mezz'oretta come dice se lo andava al bagno sì una mezz'oretta va bene ma il titolo ce lo dite? lo sa lui canzoni e cabaret era questo no? ah sì o me l'ha cambiato? no perché non si chiamina mai no magari perché lui scherza a carnevale poi c'è le suore poi c'è i preti non lo so che hai combinato canzoni e cabaret a giudicare c'è anche un personaggio che hai pensato te ho visto adesso sempre nelle reti nazionali è sempre nelle reti nazionali sì ha un personaggio il sabato sera c'è qualche ospite ce l'abbiamo di libero ma lui sicuramente ho visto che sta facendo un bel successo questo ci fa più molto e più ma lei non l'ha vista? lei chi? quella l'ho vista? insomma lui lei e l'altro comunque sia seguita Rezzo TV siamo rimasti in lui in fondo in fondo siamo tanti ma siamo rimasti qualche risata ce la faremo sicuramente sì e con un po' di bella musica ha detto bene Beppe è meglio sta bene che sta male quindi se uno guarda una cosa che insomma passa un po' di tempo bene è meglio che guarda una cosa che sta male poi io l'ho scoperto è meglio sta bene che sta male dopo il telegiornale dopo le brutte notizie che di solito noi diamo un po' di allegria e di bella musica ok e adesso passiamo alla pagina sportiva nuovo colpo di mercato per l'ACF Arezzo il club Amaranto ha annunciato l'ingaggio di Claudia Cagnina centrocampista classe 1997 di cittadinanza peruviana ma con origine italiane Cagnina cresciuta calcisticamente negli Stati Uniti nel 2019 vola in Europa per vestire la maglia del Lugano con cui esordisce in Women's Champions League la nuova numero 6 Amaranto sarà già a disposizione di Mr. Testini per la sfida di domenica 5 febbraio in casa del San Marino e ci saranno nuovi incontri di kickboxing pugilato ad Arezzo per la 24esima edizione delle stelle del ring l'evento promosso dal team Iachini con il patrocinio del comune di Arezzo è in programma dalle 18 di domenica 19 febbraio alla teatro tenda di Viale Amendola la giornata come consuetudine sarà aperta anche da un programma di combattimenti per cui sono attesi circa 200 atleti dilettanti e con questo è davvero tutto per il nostro consueto appuntamento con l'informazione io vi ringrazio come sempre per l'attenzione e vi auguro buona serata arrivederci per l'attenzione per l'attenzione Grazie a tutti.